su Angelo forza bravo Angelo dai forza su vai che ci sei vai su su 50 drittone qua spingi 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 dai 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 scanta poi Angelo dai cartello del 500 qua dai tesoro dai diciamo che non c'è la riguera su bene 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 non c'è la riguera non c'è la riguera non c'è la riguera non c'è la riguera io vi faccio vedere la mia di bici che ho portato all'ospedio l'ho portato in macchina di orecchietà baglietto vieni sotto dai vieni 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 altri corritori eccolo eccolo l'arrivo Stefano Ciao!